Buongiorno, tutto bene? Ci troviamo all'ultimo, l'ultimo diciamo sermone sulla preghiera. Non so cosa avete imparato in questo periodo, anzi è cambiato qualcosa nella vostra vita riguardo la preghiera? Le ginocchia? Iniziano ad avere il callo? Ho visto pregare persone, mentre pregavano si vedevano le telenoveli. L'ho visto io con i miei occhi, stavo evangelizzando e c'era un gruppo di vecchiette che recitavano il rosario, insomma recitavano le Ave Marie e nel frattempo vedevano la telenovela, mi ricordo era nel Casertano. Ho visto persone mentre pregavano addormentarsi, forse è successo anche a te, a me è successo. Insomma ho visto una marea di persone che pregano anche recitando le preghiere e poi mi dicono che Dio non risponde mai alle preghiere. Siamo alla fine di questo percorso sulla preghiera. Io spero che Giacomo abbia proprio avuto un impatto molto forte nella tua vita di preghiera come anche nella mia vita di preghiera. Io devo dire e confessare che da quando studio Giacomo sull'aspetto della preghiera, la mia vita della preghiera, sulla preghiera, sta prendendo una nuova piega, importante piega. E così voglio invitarvi a leggere insieme a me, ringrazio Sean per aver fatto una buona introduzione su quello che diremo e voglio invitarvi ad alzarvi in piedi mentre rileggiamo questo brano meraviglioso sulla preghiera che insomma ci ha accompagnato per diverse settimane. Questo è il quinto sermone. Vi ricordate diceva la prescrizione, la prima parte abbiamo visto la prescrizione della preghiera, versetto 13 e leggo io. C'è tra di voi qualcuno che soffre? preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni. Poi il versetto 14 è la procedura della preghiera. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui un gendolo d'olio nel nome del Signore. Versetto 15 la promessa della preghiera. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Versetto 16 la prodezza della preghiera. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. la preghiera del giusto ha una grande efficacia. E adesso vediamo il quinto punto, il prototipo della preghiera. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fin qui la parola, accomodatemi. Questa mattina dedicheremo questo tempo sul prototipo della preghiera. Giacomo per enfatizzare l'importanza della preghiera efficace, perché questo è il tema, la preghiera efficace, come io posso pregare efficacemente e come Dio può rispondere alle mie preghiere, proprio Giacomo per enfatizzare l'importanza della preghiera efficace, dà una illustrazione. E richiama l'esempio del profeta Elia. Molti ritengono che Elia sia stato il personaggio più grandioso, più appassionato che Israele abbia mai avuto. Ora Giacomo nella sua lettera, rievocando Elia, che cosa fa? Non fa altro che catturare l'attenzione del pubblico ebreo, degli ebrei. D'altronde questa lettera era indirizzata alla Chiesa, ai credenti ebrei. Elia lo si ricordava perché combatteva il rischio della propria vita contro l'idolatria di Aqab e Isabel. Lo si ricordava perché uccideva i profeti di Baal. Lo si ricordava perché esercitava un potere sovrumano, risuscitava i morti, moltiplicava l'olio della vedova indebitata, mangiava, lo si ricordava anche perché mangiava dal becco dei corvi, prediceva anche sia la carestia che l'arrivo della pioggia, fuggiva per salvare la sua vita. Lo si ricordava perché venne cibato dagli angeli nel deserto e in particolar modo lo si ricordava Elia perché imparò i segreti alla presenza di Dio nella spelonca di Oreb e poi si ricorda Elia perché svanì, svanì dalla terra in un carro di fuoco. Wow! Che uomo! Che esempio! Insomma la maggior parte degli ebrei considerava Elia come un vero eroe della fede. Addirittura Elia era così stimato che alcuni erano tentati di pensare che fosse sovrumano, che non era una persona normale. Quindi alcuni forse non riuscivano a immaginare come il suo esempio di preghiera potesse applicarsi a loro. Perché Giacomo sta parlando della preghiera, quanto sia importante, e poi cita Elia. E le persone dicono ma stai citando una persona che non è normale. Io non posso assomigliare a essere come Elia. Elia è sovrumano, Elia è stato un eroe. E invece Giacomo lo presenta dicendo, versetto 17, Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. E pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Gli ebrei pensavano che Elia fosse un extraterrestre. Giacomo dice no, era un uomo come noi. Da questi versi possiamo notare due aspetti della vita di Elia. Il primo aspetto, vediamo le sue passioni, le sue passioni. Ricordiamo che l'epoca in cui viveva Elia era un'epoca di travolgente apostasia. Sapete che cos'è l'apostasia? Quanto ci si allontana dal seguire il vero Dio. Devo dirvi una cosa a voi e a quelli che ci seguono da casa. La nostra epoca è travolgente come l'epoca in cui viveva Elia. La pandemia sta portando i credenti a stare nelle case e a seguire il Signore da remoto, da casa. C'è una nuova idea del cristianesimo. Meglio stare a casa, dietro un schermo e io mi faccio il mio cristianesimo. Questa, a parer mio, poi scrivetemi, ne possiamo parlare. Questa per me è un'apostasia modernizzata. Infatti non si frequenta più, non si fanno più le offerte per portare avanti l'opera di Dio e le chiese muoiono. Poi sapete che in questo periodo tante chiese stanno chiudendo? Tante chiese. Questa è un'apostasia modernizzata. Oggi tanti credenti non dicono più giudicate se è giusto, giudicate voi se è giusto davanti agli uomini ubbidire a Dio anziché agli uomini. Gli apostoli ubbidivano a Dio. Tanti credenti di oggi ubbidiscono agli uomini. Hanno perso la bussola. E tornando a Elia, nel suo contesto, Elia era, diciamo, il grande medico inviato da Dio per affrontare il cancro della corruzione che Acab e Isabel, sua moglie, avevano introdotto nel Regno del Nord. Come abbiamo già detto, Elia era una persona straordinaria, unica. Elia era come un Melchisedec tra i profeti, possiamo dire, perché introdotto in piena età, senza inizio e addirittura, possiamo aggiungere, senza fine di giorni. Era un uomo potente, era un uomo miracoloso che passava da un trionfo all'altro e terminò i suoi giorni sulla terra venendo rapito in cielo dal Signore. È un Melchisedec tra i profeti. Era forte, poi forse un giorno parleremo di questo, quando Elia viene rapito con questo carro di fuoco e tutti questi angeli che lo scortavano in cielo. Si potrebbe dire che Elia è stato un vero eroe della fede. Eppure Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, dice Giacomo. Giacomo usa la parola antropos, che secondo me, anche chi non ha studiato il greco, capisce di che cosa sta dicendo Giacomo. La parola che usa qui Giacomo è antropos, che enfatizza il fatto che era solo come un essere umano, era un essere umano come tanti di noi, antropos. In altre parole, questa parola che usa Giacomo era fatto dello stesso tipo di argilla come noi. Era anche un uomo con sentimenti simili. Giacomo usa anche un'altra parola che è interessante quando traduce la nostra traduzione passioni. La parola greca è homo pathos e questa parola significa homos, simile, pathos, sofferenza, tradotto con passione. significa che si trova in simile stato d'animo, che trova i medesimi affetti di un altro, come un altro. Elia era proprio come noi, come una natura simile a noi. Era semplicemente umano, un uomo. Ha sofferto come noi, come noi stiamo soffrendo. Questa stessa parola viene usata, non so se vi ricordate, quando Paolo e Barnaba si trovavano all'Istra e la folla voleva adorarli come, diciamo, delle divinità incarnate. Vi ricordate? Paolo aveva querito uno zoppo, uno storpio, e acclamarono Barnaba come Giove, mentre Paolo come Mercurio. Vi ricordate che hanno iniziato ad adorarli? E Paolo e Barnaba erano lì inorriditi e dissero a uomini, perché fate queste cose? E poi dice la parola che usa anche Giacomo, anche noi siamo esseri umani come voi. Siamo uguali. Elia, visto che Giacomo lo presenta uno come noi, con le nostre stesse passioni, Elia aveva i suoi alti e bassi. Tu hai gli alti e bassi. Quindi, alla fine, aveva le sue problematiche come le abbiamo noi? In prima re, leggo soltanto 17.11, rivolgendosi alla vedova di Serepita, egli le gridò dietro portami ti prego anche un pezzo di pane. Quindi Elia aveva fame. In prima re 19.3, Elia vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Aveva paura. Sempre in prima re 19.4 è detto, ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo basta. Era stanco per la battaglia. Subiva le nostre stesse passioni, le nostre stesse problematiche. In altre parole, Elia a volte viveva spiritualmente sulla cima della montagna, a volte nella valle. Stava proprio giù. Alcuni giorni viveva nella vittoria, altri giorni era pieno di dubbi, di depressione. Ha chiesto al Signore di morire e anche di sconfitta. Elia aveva i suoi stati d'animo, aveva i suoi alti e i suoi bassi. Questo è il primo aspetto, le sue passioni. Ma vediamo il secondo aspetto che è quello che secondo me ci deve proprio catturare. Il secondo aspetto della vita di Elia, abbiamo visto le sue passioni, vediamo le sue preghiere. Le sue preghiere. Giacomo si concentra sulle due eccezionali preghiere di Elia. Due preghiere eccezionali. preghiere in cui Elia fu in grado di comandare le stesse nuvole del cielo. E dice qui Giacomo, versetto 17, la seconda parte, pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Ora qualcuno potrebbe dire, ma come mai un uomo che ha le stesse passioni come le nostre può pregare così e addirittura impedire alle nuvole di dare la pioggia, oppure addirittura pregare di nuovo e dire adesso date la pioggia. Sapete, queste non furono le uniche preghiere registrate di Elia nell'Antico Testamento. Elia fece due preghiere notevoli in relazione alla morte e anche alla risurrezione del figlio della vedova. Vi ricordo in Prima Rea 17 dice così, poi invocò il Signore e disse, sempre Elia che prega, Signore mio Dio colpisci di sventura anche questa vedova dalla quale io sono ospite facendole morire il figlio? Sta pregando intensamente. si distesse quindi tre volte sul bambino e invocò il Signore e disse, Signore mio Dio torni, ti prego l'anima mia di questo bambino è lui, torni. E il Signore esaudì la voce di Elia, l'anima del bambino tornò in lui ed egli visse. Ma Giacomo è particolarmente interessato alle due preghiere che portarono da prima giudizio e poi sollievo a una terra apostata. Giacomo dice che Elia pregò intensamente. Pensate che abbia pregato davanti a una telenovela? Pensate che abbia recitato a memoria tutte le preghiere che si potevano imparare? La parola usata qui per pregò intensamente letteralmente potrebbe uscire questa frase, pregò nella sua preghiera. E l'espressione denota una preghiera seria, sincera, una preghiera fervente. In altre parole Elia mise le sue passioni nelle sue preghiere. Elia pregava intensamente. Avete un bisogno? Avete una cosa seria? Come preghiamo? Come pregate? Elia pregò intensamente, ardentemente, ha pregato con la preghiera. È un modo composto per dire pregava davvero, sul serio, pregava con la preghiera. Alcune persone, anche credenti, pregano ma non pregano seriamente. Alcune volte quando si va in preghiera è come se vai a prendere la comanda a un cameriere, no? Che vai al tavolo e dice allora che volete? Allora quando si va in preghiera alcune volte è come se Dio fosse il nostro cameriere. Voglio questo, voglio quest'altro. La lista è lunghissima. Alcuni stanno semplicemente dando un ordine a Dio mentre pregano. Stanno dettando come se fosse un segretario divino. Ecco, prendi appunti, dai, forza, scrivi. Scrivi che hai molto da scrivere oggi. Questo non è pregare. Mi dispiace ma non è pregare. È pretendere egoisticamente delle cose da Dio. Pretendere. Elia pregava davvero e seriamente. Ora, se le nostre preghiere sembrano parole al vento e le nostre preghiere non ricevono risposta, certamente c'è qualcosa che non va. Naturalmente non in Dio, ma in noi. Preghiamo, preghiamo, parole, 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 ma non succede nulla. Come mai? Forse chiediamo senza fiducia. E quando si prega senza fiducia le nostre preghiere non possono, non sono preghiere della fede. Perché sono senza fiducia. Oppure non vogliamo veramente le cose nel nostro intimo, quello che stiamo chiedendo, non le vogliamo. Addirittura non siamo nemmeno disposti a pagarne il prezzo mentre preghiamo. E come pretendiamo che Dio ci ascolti? Forse quando preghiamo lo scopo della nostra preghiera è la nostra felicità. O quella che ne riteniamo tale. Ma quando preghiamo non è la ricerca di Dio e noi, o magari è la ricerca della gloria di Dio. È per la nostra felicità. La storia di Elia si trova in Prima Re 17-18, vabbè anche 19 eccetera, ma in modo particolare questo esempio di preghiera si trova in questi due capitoli. Ma leggendo questi due capitoli sempre a non dire nulla della preghiera di Elia. Non dice nulla dei tre anni e mezzo di siccità. In Prima Re 18-1 menziona il terzo anno, ma suppone la sua preghiera e parla della siccità. Studiando questi due capitoli in questa settimana, le due preghiere sono unite nella storia dell'Antico Testamento dalle frasi gemelle, va verso oriente e nasconditi, dice l'Eterno a Elia. Capitolo Prima Re 17-3. Poi al capitolo 18-1 dice va e presentati ad Acab. È come se stesse proprio dialogando con Dio. Ecco la preghiera. La preghiera vera, quella seria, è parlare con Dio. Una cosa da sottolineare, è molto importante, la preghiera che Dio trattenesse la pioggia, perché Elia ha pregato che Dio trattenesse la pioggia, è interessante scoprire che questa preghiera era in accordo con la legge mosaica. E vi dico perché. In Deuteronomio 28-23-24, non la andiamo a leggere, ma Deuteronomio dice che la siccità era una delle punizioni per l'apostasia. E il tempo in cui stava vivendo il popolo di Israele con Acab e Izebel era un tempo di apostasia. Elia sapeva che la punizione era proprio la siccità. E quindi Elia, conoscendo la scrittura, era in sintonia, era in accordo con Dio, con la visione di Dio. E quindi quando andava in preghiera sapeva quello che poteva chiedere. Allo stesso modo, in Deuteronomio si capisce che un popolo pentito, un popolo pentito poteva aspettarsi che Dio fosse generoso con che cosa? Con le piogge annuali. Come stiamo vedendo, Elia aveva una solida base nelle scritture per la sua forte fede. Leggete la Bibbia? La meditate? O la leggete come l'oroscopo? Aprite a caso? Vediamo cosa esce oggi. Pregare e parlare con Dio. Leggere e Dio parla a noi. Quando Elia si trovò alla presenza del debole re Aqab, perché era debole e aveva una moglie perfida, Isabel, Isabel era una principessa senza scrupoli. Era terribile. In siciliano sapete come si dice? Amaro cucincaglia. Cingaglia. Avere una moglie così. Era una principessa completamente pagana dalla testa ai piedi. Completamente. Talmente pagana che importò completamente in Israele tutto il culto dei fenici. Tutto, pienamente. Addirittura ha trascinato con sé 850 falsi profeti di Baal e di Astarte. E questi idoli erano terribili. Le cose che facevano con Astarte e Baal erano cose abominevoli all'eterno. Alla presenza di Aqab dichiarò, Elia che non temeva agli uomini, come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né ruggiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Prima re dice 7.1. Davanti al re Aqab, senza mai e senza però, non temeva agli uomini. Poi girò i suoi tacchi sui suoi tacchi, andò fuori dalla presenza del re sbalordito e sparì. Sparì. La preghiera di Elia non era una richiesta rilassata, non era una richiesta indebolita. Dio sarebbe bello se non piovesse, no? Come magari preghiamo noi, disinvolti. Sì, Signore guarisci questa persona, sarebbe bello se può guarire. La sua preghiera era una preghiera appassionata, carica, calorosa. Infatti la carestia e la siccità attanagliarono la terra di quel tempo e continuò per tre anni e mezzo proprio come l'imminente grande tribolazione che incombe sull'umanità. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuna carne sarebbe stata salvata in Israele. Elia rimase nascosto mentre Acabe e i suoi aiutanti perlustravano il paese cercandolo. E mentre Izebel, che cosa faceva? Izebel emetteva minacce e massacri. Gli uomini strinsero la cinghia e perirono di fame. La preghiera di Elia portò il giudizio sulla terra. Un grande giudizio, un forte giudizio. Ma quando i tempi furono maturi, Elia tornò dal suo isolamento. Va, presentati ad Acab, primaria 18.1. Si avvicinò ad Acab e organizzò una prova di forza di quelle mai viste che io vi invito a leggere e a scoprire sul Monte Carmelo, in Prima Re 18, dai versetti 20 a 40. Una prova di forza incredibile. Va bene, tu adori Baal, Astarte? Va bene, facciamo una prova. Vediamo chi dei due vince. O l'Idio di Israele, Yahweh, o Baal, o Astarte. Elia è bello perché è anche molto ironico, sarcastico, Elia. Gridate più forte, non vi sente forse. Andatela a leggere questi capitoli, questi versi. Elia, dopo aver esposto l'assoluta inutilità del culto a questi dei pagani morti, e anche l'inutilità dei suoi sacerdoti, pregò di nuovo una preghiera appassionata, pregò intensamente. Infatti il versetto 42 del capitolo 18 di Prima Re dice, Elia salì in vetta al Carmelo e gettato si a terra, guardate che postura prendeva, si mise la faccia tra le ginocchia. Qualcuno lo può imitare? Come preghiamo noi? Io pensavo che alcune volte pregare non è importante come mettersi, no, la postura non è importante, ma quando io prego disteso sul letto, non so se prego intensamente. Non lo so. Elia, gettatosi a terra, si mise la faccia tra le ginocchia. Il testo dice che dopo essersi piegato in questa posizione appassionatamente orante, per sette volte, sette volte, venne giù la pioggia. E il testo dice, nel versetto 45 del capitolo 18 del Prima Re, in un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Dopo tre anni e mezzo. Una preghiera appassionante. Sapete che Dio voglia proprio cambiare la nostra approccia alla preghiera, completamente. Perché va di mezzo la vita in cui viviamo, la società in cui stiamo. Quando noi siamo superficiali nella preghiera, non stiamo aiutando la società o la Chiesa. Dio si diletta sovranamente a rispondere alle preghiere appassionanti dei Suoi figli. Ora, non sto dicendo che la passione nella preghiera sia un'opera meritoria. Non sto dicendo questo. Ne sto suggerendo che la preghiera sudata e frenetica sia necessariamente gradita a Dio. Non sto dicendo questo. Ma la vera passione, comunque sia espressa attraverso la propria personalità, è una parte della preghiera a cui Dio si compiace di rispondere. Il cuore di Elia era un turbine di passione quando andava in preghiera. E così è stato per tutte le grandi preghiere offerte a Dio. Considerate per esempio Giacobbe che lottò con Dio a Yabok. Giacobbe che lotta con Dio. Pensate un po' questa lotta, Giacobbe, che tempesta di passione mentre si scatena quella notte davanti al trono di Dio. Lui che lotta con Dio tutta la notte. La passione di Giacobbe ha lacerato il suo corpo e zoppicando, zoppicando diventa Israele. Israele. Non è diventato così tanto per diventare Israele. Lui ha lottato tutta la notte con Dio. Tutta la notte. Che tempesta di passione scatenò davanti al trono di Dio quest'uomo. Ricordate quando Anna piangeva per la sua sterilità? Quante donne magari non possono avere figli e pregano come preghiamo? Anna era sterile, non poteva avere figli. L'altra moglie del marito si prendeva a gioco di Anna. E mentre Anna pregava, piangeva per la sua sterilità, il sacerdote Eli pensò che fosse ubriaca. Vi ricordate? Invece Anna pregava come? Intensamente. Non era ubriaca. Pregava intensamente. La sua passione in preghiera era esagerata, spropositata. Tanto che il sacerdote dice questa sarà ubriaca perché di solito si prega in silenzio. Di solito. Il nostro modo di vedere. E le disse in prima Samuele 14, quando durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino fuori da qui. Ma Anna rispose e disse no, mio signore. Io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo sola prendo il mio cuore davanti al Signore. Altro che vino. Una preghiera esagerata, una preghiera intensa, fece Anna. E cosa successe? Dio le esaudì. Dio esaudì la preghiera di Anna. Esdra, vi ricordate? Esdra, il restauratore di Israele. Leggiamo in Esdra 9, 5. Al momento dell'offerta della sera mi alzai dalla mia umiliazione con le vesti e col mantello stracciati. Caddi in ginocchio? Estendendo le mani verso il Signore, mio Dio, pregai. Come preghiamo noi? Così fu anche Neemia. Neemia che pregò e pianse sulle mura cadute di Israele. Dice Neemia 1, 4. Quando udì queste parole mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E Dio rispose alle preghiere di Esdra e di Neemia. Nel Nuovo Testamento arriviamo all'appassionato Paolo, perché io stesso, dice Paolo in Romani 9, 3, vorrei essere anatema separato da Cristo per l'amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Per non parlare del suo discepolo Epafra, di cui Paolo dice ai Colossesi, egli lotta, egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché siate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Colossesi 4, 12. In Atti 12, versetto 5, l'Apostolo Pietro era incarcerato, Erode voleva farlo fuori come ha fatto con Giacomo e la Chiesa dice Pietro dunque era custodito nella prigione ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. E cosa accadde? Dio mandò un angelo a liberare Pietro. Fervide preghiere. Come preghi per il tuo problema tu? O come preghi per un altro problema che magari non è tuo ma è di un altro fratello, di una sorella, di una mamma, di un padre, di un figlio? Vi ricordate della vedova che sfinì? Sfiancò completamente il giudice iniquo, ve lo ricordate? Ogni giorno andava a dire che riceve delle ingiustizie. Vi ricordate queste storie? E come andò a finire? Il giudice iniquo fece giustizia a questa donna. Ma guardate il grande, grandioso esempio del pregare intensamente è Cristo, il nostro Signore, che dice così in Ebrei 5,7 che nei giorni della sua carne con alte grida e con lacrime egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Giacomo ovviamente per citare Elia fu impressionato dall'esempio di questo uomo di preghiera che fu Elia. Elia era l'eroe di Giacomo ma Gesù era diventato il suo Dio. Giacomo ci sta dicendo guardate Elia era un uomo come noi, pur essendo come noi un uomo con i suoi pregi e i difetti, con le sue possibilità e i suoi limiti ha pregato e guardate cosa ha fatto Dio. Guardate, ottenne cose meravigliose mediante la preghiera. Dio ha controllato letteralmente la pioggia in risposta alla preghiera di Elia. Dio mandò la pioggia in risposta alle preghiere di un uomo giusto, forte spiritualmente e risponde Dio. Anche oggi il Signore vuole ristorare, anche oggi il Signore vuole rinfrescare l'arido, secco, stanco, esausto cuore con il suo tocco rinfrescante dal cielo. Anche oggi. E lo fa attraverso di me, attraverso di te, attraverso la tua vita di preghiera. Che ministero? Che ministero? Il ministero della preghiera. Forse non tutti possiamo predicare come magari sto facendo io, ma tutti possiamo avere questo ministero della preghiera. Tutti. Everybody? Tutti. Tutti. Senza esclusione di nessuno. Anche i bambini pregano. Anche i bambini possono avere un ministero forte di preghiera. Se vedono te in ginocchio. vi hanno mai trovati i vostri figli in ginocchio? Eh. È più di mille parole. Non devi dire molto. Devi vivere. Questo cambia le persone. La vita trasformata. Conclusione di questa sessione sulla preghiera. Vorrei concludere. Il messaggio, penso, fratele, sorelle, amici, è molto chiaro per tutti noi. È un messaggio forte. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. E lì era un uomo giusto. E la sua preghiera è stata potente, efficace. Alcuni studiosi pensano che sia meglio tradotto questo verso. La preghiera di un uomo giusto è di grande potenza quando è energizzata. Nella preghiera l'energizzante è lo Spirito Santo. Sei in comunione con Dio? Hai una relazione intima con Dio? Lo Spirito Santo energizza la tua preghiera. Paolo Romani scrive a questo proposito, Romani 8, 26, allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede gli stessi per noi con sospiri ineffabili. Lo Spirito Santo è energizzante per la preghiera. In altre parole, lo Spirito Santo energizza la preghiera. Colui che prega è energizzato in modo da pregare intensamente, come Giacomo sta cercando di dimostrare con l'esempio di Elia. Straordinario. Quindi se uno è giusto, avendo confessato tutto il peccato conosciuto, essendo energizzato dallo Spirito Santo a pregare intensamente, ci sarà grande potenza. Se uno è giusto. La Chiesa di oggi ha bisogno di vivere due grandi doveri di questo brano di Giacomo. Due. Primo grande dovere della Chiesa di oggi. Deve essere una Chiesa impegnata in una profonda confessione. Anche questo deve cambiare nelle nostre vite. Lo Spirito Santo ci sta pungolando settimana dopo settimana in questo periodo a confessare il nostro peccato forse a un fratello, a una sorella contro cui abbiamo peccato. Valla a confessare, vagliela a dire, chiedi perdono nel modo giusto però, non per dire che la odi, ma nel modo giusto. Se è così che lo Spirito Santo ti ha pungolato in tutto questo periodo, facciamolo prima di adorare di nuovo per la prossima domenica. Ci sono peccati nella nostra vita che hanno bisogno di essere confessati a un credente maturo, forse a un anziano, forse a un pastore, in modo che possano, possono pregare per noi e ritenerci responsabili. Se è così, non possiamo rimandare. Chiama, chiedi. La confessione è umiliante, è vero, ma è salutare per la tua anima. È così. Secondo grande dovere della Chiesa, deve essere allora, abbiamo detto, una Chiesa impegnata in una profonda confessione. Secondo dovere della Chiesa di oggi, deve essere una Chiesa impegnata in una potente preghiera. Basta con le parole al vento. La preghiera che viene dall'essere giusti, puri davanti a Dio, questa deve essere la nostra preghiera. La preghiera di un uomo o di una donna di Dio pura e giusta è potente. È potente. pregare intensamente con passione ci fa diventare come il potente Elia. Eppure Elia era un uomo come noi, con le nostre stesse passioni. Uguale. Ma Elia però era un uomo giusto. Come dice la traduzione, una traduzione dice, può molto la fervente supplicazione del giusto. Perciò fratelli, sorelle e amici, sì sincero. Sì sincero, 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 sì così, fino a essere immensamente giusto. Fai quello che fai come se la posta in gioco fosse il cielo. La preghiera di un uomo o di una donna retta è una grande forza quando è energizzata da Dio. Vogliamo alzarci in piedi e preghiamo. Signore ti ringraziamo perché in questo periodo tu hai davvero pungolato la nostra anima, il nostro spirito, i nostri pensieri con questo tema della preghiera. Una preghiera che noi prendevamo molto superficialmente nella nostra vita quando invece vediamo l'importanza che ha nella Chiesa di oggi come nel passato. Signore donaci di essere uomini e donne che vivono una vita giusta agli occhi tuoi, in primis, poi anche agli occhi del nostro prossimo. Signore donaci di essere donne e uomini che confessano il proprio peccato. Donaci di far sì che possiamo chiedere aiuto quando ci sentiamo deboli. Signore donaci di essere davvero onorati, onorati da essere... Ecco, non è d'accordo il cellulare con la preghiera. Signore tu sai, sappiamo che la preghiera è una lotta, è una battaglia, è un combattimento e noi vogliamo essere vittoriosi insieme a te. Benedici questa assemblea, benedici coloro che sono qui, coloro che hanno un problema, che pregano e che non vengono ascoltati. Signore voglia tu imprimere nel nostro cuore, nel cuore di ognuno, l'importanza di una preghiera intensa, calorosa, passionale, l'importanza di essere anche coerenti con la tua parola, in modo tale che chiediamo tutto secondo la tua santa volontà. Signore libera, liberaci da quegli ostacoli che ci impediscono di essere uomini e donne di preghiera e guarisci, Signore, i nostri cuori, le nostre animi, il nostro spirito affinché possiamo essere l'Elia del terzo millennio che porta sì giudizio ma anche sollievo quando parliamo della tua salvezza in Cristo Gesù. Grazie Signore perché tu vuoi un popolo santo che ti onora e ti glorifica. Benedici questa parola nei nostri cuori che possa rimanere lungo a lungo nella nostra vita. Te lo chiediamo nel nome prezioso del nostro Signore Gesù. Amen. Grazie.